Che ambisce diventare consigliere comunale ad agrigento, ma anche amministratore, sindaco, perché no, ma anche assessore, deve avere delle basi, deve sapere come funziona una pubblica amministrazione e per questo voi avete organizzato questo seminario. Sì, sì, assolutamente. La conoscenza è alla base del sapere, è alla base del sapere amministrare. Il passaggio è quasi obbligato. Chi vuole provare a dare il contributo fattivo all'interno del Consiglio Comunale, all'interno della nostra amministrazione, necessita di una preparazione di base, una conoscenza che possa dare i primi approcci assolutamente costruttivi. Questo è il fine, questo è lo scopo del nostro incontro. Indubbiamente i primi, diciamo, utenti di questo seminario sono proprio, siete voi quelli che tra l'altro scenderete in campo proprio nella lista di Epolis. Sì, però io vorrei, abbiamo detto diverse volte che è aperto a tutti. Il cittadino comune può venire ad ascoltare, perché sentir parlare di Europa, di vincoli che ci sono e che ci legano fortemente all'Europa, è una conoscenza che ci aiuta anche nella vita, nelle scelte di ogni giorno. Il conoscere e sapere i tecnicismi dell'amministrazione aiuta il cittadino a comprendere l'operato dell'amministrazione e può giudicare ancora meglio l'operato relativo.